Ciao a tutti, siamo sempre noi, il negozio Le Chicche, abbigliamento Donna Curvi, siamo a Senigallia, in via Cavur 36. Abbiamo anche un sito, un sito di shop, si chiama shop.lechicchesenigallia.it dove trovate tutte le misure, tutte le taglie, le foto nei vari colori della merce disponibile e i prezzi soprattutto. Abbiamo il numero di Whatsapp dove potete ordinare e acquistare, è il numero 347 10 59 082. Abbiamo abbigliamento sfizioso per donne Curvi, colorato, giovane, moderno. Intanto vi presento, vi salutiamo Valentina che è con noi alla regia e Adriana che indossa qualche capo per noi. Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, partiamo con un'esplosione di turchese oggi. Quello che indossa Adriana è un mini abito con le taschine in due tessuti, cotone leggero garzato, leggero estivo, e sotto e ai lati è il cotone, per intenderci, della camicia. Adesso lo giro dietro, eccoci qua. Ecco qui. È molto carino, è svasato, sotto abbiamo messo un pantalone a gamba stretta, al posto del leggin, solito leggin, pantalone stropicciato a gamba stretta, in cotone molto leggero. Allora, il mini abito lo trovate sul sito come mini abito due tessuti, tinta unita, 33 euro, seno fino a 130, fianchi 160, in cotone disponibile variante unica in turchese. Il pantalone lo trovate invece come pantalone in cotone leggero a gamba stretta, 59 euro, disponibile in più taglie e più colori. Per le taglie potete o confrontarle sul sito, oppure chiedere a noi, vi diciamo la più indicata per voi. I colori sono il bianco che indossa Adriana, il nero, il verde militare, il verde... Ecco, ecco, ecco. Arriva il brando... Arriva nei colori... Boom. Ecco, caduto. Ce l'ho fatta fa un casino, eh. Allora, eccoli. Verde, si vede? Sì. Bluett, blu scuro, verde militare, sabbia e bianco. È nero. Ah, è nero, sì, è nero. Ciao a tutti, grazie Sonia. Allora, intanto vi inizio a spiegare un po' quello che vedete appeso in turchese. O vuoi iniziare tu? Vai, vai, vai. Allora, sul manichino trovate la maglia quella? No, la maglia è questa. Questa è la felpina leggera. Allora, quelle due sono lo stesso identico modello, solo che uno è la versione in maglia e uno è la versione felpa garzata leggera. La maglia viene 19 e la felpa 21. Le taglie sono seno fino a 150 e fianchi fino a 140. Come dico sempre, tutte le taglie uniche che vedete possono essere indossate anche da misure più piccole. Sì, anche tipo me. È una scatolina, un po' stondata, taglio vivo, sia la felpa che la maglia, maglia lunga. Sì, la maglia è disponibile in turchese in arancio, mentre la felpa è disponibile in turchese bluet e basta. Sì, rimasti pochi colori lì. Rimasti pochi colori. Allora, sotto? Sotto abbiamo la gonna palloncino, è una gonna sempre in felpa leggera, garzata, 29 euro, disponibile anche in fucse e in sabbia. La gonna è fatta così, magari da vicino si vede meglio. Sì, ha dettagli. È in due tessuti. Sì, viene 29 euro, veste di vita fino a 110, fianchi 150. Il tessuto ha felpa garzata e cotone elasticizzato, elastico in vita e taschine laterali. Ciao a tutte, grazie Francesca, è arrivato il pacco, è tutto bellissimo. Grazie. Bene, questo ci fa molto piacere. Ci saluta anche Barbara da Padova. Ciao Barbara! Ok, allora, poi la maglia sempre sul manichino è la maglia pompon, 39 euro. È in viscosa molto leggera, è mobile, piacevole indossarla. Allora, seno 330, fianchi 134. Questa è la maglietta che sotto magari si vede poco, però è così. Disponibile, oltre che in bianco, sul sito il bianco mi sa che ancora non lo trovate, però è disponibile il verde acido e il turchese. Il turchese. Bluette. Ok. Poi, appeso di fianco, abbiamo l'abito con le tasche e due tessuti, 46 euro. Magari prima se è presente questo lo togliamo e facciamo vedere bene l'abito. 34 euro. 34 euro in rete. Cardigan in rete. Disponibile anche in verde militare, nero e lilla, giusto? E così faccio vedere meglio l'abitino. Questo ce l'avevamo disponibile, era terminato, non avevamo più i colori disponibili, è arrivato ieri, nuovo nuovo. Taschina, sotto è cotone, cotone in tessuto come le camicie, sopra invece è maglia. Ha le taschine, è arricciato, ma è un'arricciatura che non gonfia. La maglia è disponibile in tre colori. Turchese. Adesso arrivano gli altri. Non è facile. Blu. E verde. Poi, appeso di fianco, troviamo la maglia che abbiamo detto prima, 19 euro, disponibile anche in arancio. La canota sotto è la canota in tinta unita, in traverso, è una taglia unica. Sì, come questa che indosso io. Fa anche la sottogiacca. Diciamo che chi la prende la usa in tanti abbinamenti, si può usare come sottogiacca, come sotto le maglie per allungarle. È un continuativo, l'abbiamo tutte le stagioni questa canotta, la fanno, quindi è disponibile sempre. È una cannottina semplice, però molto carina. È un po' in traverso, quindi allarga, stende. E niente, è un tessuto fresco, che però si usa anche in inverno. Canotta in viscosa, 39 euro. Disponibile in bianco, in nero, blu. E non mi ricordo se c'era qualche altro colore. No, bianco, nero e blu. Bianco, nero e blu. Poi sotto trovate il pantalone a tulipano, che ha il particolare del taglio in fondo, sul fianco. 24 euro, taglia unica, vita fino a 120, fianchi fino a 140. Allora, volevo far vedere il pantalone, lo sto cercando. Eccolo qua, lo facciamo vedere in bianco. È molto carino, perché ha l'elastico in vita, la gamba un po' a palloncino, tasche in tessuto. E in fondo ha questo motivo, questo motivo che va un po' a stringere, rimane leggermente aperto lateralmente. Ad osso è veramente carino. Disponibile in bianco, turchese e anche in verde, scuro e nero. Il pezzo leggeretto? Sì. Ok. Vediamo un altro completo da Adriana. Anche questo è particolare. Allora, questo è un completo di felpa, sempre leggera. Garzata in cotone, molto leggera, carino. Il gilet è particolare, perché ha questo sbuffo. E sale davanti, più corto. Può fare da tasca. Gira, vediamo un po'. Ecco, dietro c'è questa balza più alta, questo tasca. È particolare, molto particolare. Anche questo è nuovo di ieri, quindi queste cose, vi possiamo dare le misure, il prezzo, tutto quanto, ma ancora non le trovate sul sito. Quindi se volete ci potete contattare. Ci contattate su WhatsApp e vi rispondo io. Ciao Barbara, ciao Sonia, grazie Romina. Il pantalone è dello stesso tessuto del gilet, quindi è un completo, volendo. È un pantalone con il taglio nella gamba particolare. Dietro dovrebbe avere anche... Sì, c'è un taglio dietro, è tutto un po' particolare. Stringe un pochino in fondo, ma ha la gamba morbida, palloncino. La camicina è quella che abbiamo di solito presentato. Questa è una taglia unica, per quanto riguarda il gilet fa di seno 120, fianchi 140. Il pantalone di vita fa fino a 130, fianchi fino a 160, lunghezza 90. Adriana è alta. Allora, il completo viene... Allora, ci sono i prezzi separati poi? No, dicono che sei magra, sai? Sono magra. Mi dicono tutti che sei magra. Questo è completo o divisi? No, due pezzi. Due pezzi, ok. Cioè, è completo nel senso che è lo stesso tessuto, si può abbinare, però si può anche vendere separato. Ok, quindi separatamente, allora, il gilet viene 64, il pantalone 56. La camicina 35, che è quella che abbiamo... No, questa 42. No, 42, scusa, ho sbagliato con quell'altra. Questa è la camicia con punte, 42 euro, seno 114, fianchi 140. Prego. Vado, questa camicia è gelata. Oh, è bellino. Ciao, complimenti, avete delle cose molto belle. Volevo chiedere se avete i siti più eleganti. Elegantissimi no, ma abbiamo delle cosine un po' più... Sì, un po' più elegantine, sì, però non... Che vestono di più, sì, da cerimonia, no, però ci sono degli abbinamenti che fanno anche per certe occasioni che però sono meno formati, cioè il nome non formati. Per esempio questo, adesso andiamo un attimo fuori dal seminato. Questo è un gilet che ha il suo pantalone, ecco, questo ha il pantalone largo così, oppure può avere il pantalone con la piuma che quest'anno va tanto. Poi abbiamo altre cose in taftà, abbiamo... Però, ecco, su questo livello qui non elegantissime, diciamo. Non so se abbiamo riparato qualcosa di stasera, ma non... Quello che era in vetrina in fantasia, è bello. O il taftà, cioè ce ne sono diverse. Ce ne sono diverse di cose... Questo per esempio... Allora, tutti i vostri capi sono molto belli, grazie. Questo è uno spolverino che volendo c'ha il suo pantalone così o anche... Allora, Cristina, ciao, ci sono i pantaloni di Diana sul sito? No, attualmente no, perché sono arrivati proprio oggi. Quindi, al momento non li trovate. Potete scriverci su WhatsApp 347 10 59 082 e vi rispondo io. Prezzo del gilet pantalone. Allora, il gilet 64 e il pantalone 56. Quanto viene il pantalone con il petalo? 24. 24. Il pantalone che ho indosso io, il jeans, che è arrivato nuovo, sono quelli che già conoscete, che avevamo la stagione estiva scorsa e anche quest'inverno in tessuto più pesante, sono quelli da 39 euro. hanno l'elastico in vita, questa volta, a differenza delle stagioni passate, è arrivato, è taglia unica, però è arrivato in due misure. Nel senso, è arrivata la misura più piccolina, che è questa che ho indosso io, e poi nello stesso modello è arrivata la misura più grande, che arriva fino alla taglia 60. Allora, per farvi vedere il modello... Ciao Katia, grazie! Eccolo qui. Il modello è questo. Questo ovviamente è quello più grande, con il risvoltino così. E questo che indosso io, quello un po' più slim. Che però comunque, questo qui slim, veste fino a una 50 sicuro. E poi dopo indosso la canotta che abbiamo presentato prima. E là invece la maglietta, questa qui, la maglietta coprispalle, da 29 euro, che è disponibile in vari colori. Allora, sì, è disponibile in vari colori, veste di seno fino a 150, per il resto, vabbè, i fianchi non ne ha. No, è corta, perché è un coprispalle. Allora, Sonia chiede lo spolverino che ha fatto vedere. Allora, lo spolverino lo trovate sul sito, come abito, camicia, fantasia, anche spolverino, era un po' lungo, perché può fare da chiuso sia da abito, che camicia, che spolverino, insomma. Quale? Quello bianco e nero? Sì, 86 euro, veste di seno fino a 130, fianchi fino a 180, lunghezza 106, quello è molto bello, piace anche a me. È bellissimo, sì. Di questo, adesso, io ho fatto vedere questo a caso per far vedere qualcosa di un pochino più, però molto carino c'è anche l'abito, che è questo, che è particolare, e c'è anche una casacchina rimasta. Allora, mentre il pantalone che ha fatto vedere insieme allo spolverino è il pantalone più corto dietro, 79 euro, e veste di vita fino a 118, fianchi fino a 160, molto bello anche quello. Perché ho fatto vedere quello? È molto particolare. Quello che abbiamo tolto giù prima, vale? Dove è stato messo? È sul tavolo, l'ho lasciato. Perché quello là... E' molto carino perché ha le tasche con i bottoncini, questo è un nastrino di raso che richiama la casacca che non abbiamo più. Però ecco, con i bottoncini, ha le tasche dietro, è più corto, è dietro più davanti, è più lungo perché ha questo riporto in raso come... Però è molto bello. Poi adesso che viene la bella stagione di sera, è molto bello questo. Adosso è bello, sì. Ok, allora, i jeans più chiari li hai? Eh, al momento direi di no. Però arriveranno, arriveranno più chiari, più leggeri, poi di tutto. Allora, per quanto riguarda i jeans che indossa mamma, ancora non li trovate sul sito, perché sul sito avevamo misure diverse, devo fare la modifica. Nel frattempo ci potete scrivere e li potete ordinare tramite Whatsapp, perché lì ci sono misure, delle misure intermedie, adesso c'è la versione un po' più piccola e la versione più grande. Prima c'era una taglia unica, adesso sono due taglie uniche, più grandi e più piccole. Allora, il completo quello fucsia con gilet, pantaloni con piumi, mi dici il costo e cosa si può abbinare sopra. Intanto io rispondo a Sonia, i pantaloni lungo 101 davanti, 96 dietro. Adriana che è alta pochi centimetri meno di te e li porta bene. Allora, questo viene 109 il pantalone e 119 il gilet, però c'è anche il pantalone senza piume che viene meno, che viene 79 euro. Sotto, beh qui ci vuole una camicina, una casacca scivolata, dipende poi per l'occasione. Poi dipende anche se di sera magari un colore scuro, tipo il nero, di giorno è molto bello anche col bianco. Però sono cose belle che si possono anche sfruttare in altre occasioni. Sì, poi ecco, ci chiedevano queste cose un po' elegantine, anche queste cose qua sono belle. Questo volendo c'è anche la sua giacca scivolata, blazer. Noi adesso stasera non le abbiamo fatte vedere perché ci siamo orientate su altre cose, però ecco, anche queste cose qui sono... Sì, Sonia, sul sito ritrovi i pantaloni, si chiamano pantaloni più corto dietro. Allora, vediamo un'altra casacca? Ecco qui, casacchina di mussola, molto leggera, leggera, leggera proprio per l'estate. Ha lo scacchietto e ha il qua, ha le punte davanti e dietro, mezza manica, ecco qui. Sotto abbiamo messo un pantalone in viscosa, leggero. Allora, la casacca trovate sul sito come casacca, bolli e scacchi, 74 euro. Non c'ho le tasche. Veste di seno fino a 160. È disponibile anche in nero e bianco, questo è blu e bianco, ed è disponibile anche un modello... me lo prendo, sì, con la fantasia, la stessa fantasia, un altro modello. Molto carino anche questo. E anche questo è disponibile anche in bianco e nero. Sì. Il pantalone è un pantalone che viene 69 euro, veste di vita fino a 130, anche fino a 140. ok. Ok. Vai. E vai. E rivado, mi vado a spogliare. Ok. Allora Paola, per lui o per un battesimo direi che il completo quello Fux è perfetto, cioè è molto carino, è vivace, il colore, è bello. Poi comunque, come dicevo, si può anche risfruttare tipo il pantalone da solo con una t-shirt sopra. Secondo me è molto bello. Allora, io per noto un jeans con ricolta indossata la mamma, la canotta in blu come indossata. Va bene, Barbara? Barbara di Padova. Sì. Allora, non ricordo più come devo fare questa, questa. Allora, jeans e canotta. Non ricordo i prezzi di quanto riguarda la mamma, 39 euro. Il vestito è nel centro, dietro, che colori? Allora, che vestito c'era fino a poco fa? Perché quello buchese, vero? Sì. Allora, quello lì, i colori, gli altri sono il blu e il verde? Il blu e il verde, sì. Questi qui, guarda, ce li ho poggiati qua. La vestibilità è una taglia unica che però veste di seno fino a 130. Allora, sul sito si ritrovi tutti e tre i pezzi, sia il gilet, sia il pantalone con le piume, che il pantalone senza. Se dovesse avere qualche problema nel trovarli, scrivici pure che ti mando il link o comunque risolviamo. Comunque ci sono tutti e tre i pezzi. Li trovi anche sotto forma di completo, nella sezione completi, senza dover cercare pezzo per pezzo. Allora, Alina, in che colori il blaterare che avete fatto intravedere prima? Ah, il blazer, il correttore. Il blazer c'è un blu e un nero? Ah, questo sì, c'è il blu e nero. Questo qui. Così. E il nero... Eccolo qua. Poi volendo hanno il loro pantalone. Il blu e il pantalone gamba dritta, il nero e il pantalone gauccio. Gamba larga. È un gamba larga fino alla caviglia. Sì, abbiamo preso gamba larga alla caviglia per strammatizzare un po' il nero, perché sennò diventasse... Un po' serio. Allora. Ti sento bella. Aspetta, parla. Ti sento bella? Cosa ho messo? Sono vestita tutta di... Basta che non ho l'etichetta fuori. No. Non posso. Eh sì, non è stato così. Allora, intanto iniziamo col bianco e nero. Sul manichino trovate l'abito... Ci siamo. Ecco. Ci siamo. Arrivo. Ti blocchiamo, perché dopo se no devo cambiare. Mi sento bella. Allora, questo è veramente bellissimo. È il completo di Matt. Spolverino lungo, con lo spacco laterale e pantalone grande. E anche la casacca è di Matt, abbinata al completo. Tutto molto bello. Sì. Ha le tasche, ha il piegone qui, c'è i cartellini tutti ammucchiati. Fuori? No, no, fuori c'è. È un po' ammucchiati. Ma perché sono grandi questi cartellini. Ha le tasche. Ha le tasche, tutto abbottonato fino in forno, quindi può essere utilizzato anche come abito. Eh sì. Pantaloni a palazzo e casacchina. Allora, lo spolverino è spolverino abito con spacchi. 129 euro, disponibile in tre taglie sml, quindi a seconda delle vostre misure, vi consigliamo la taglia corrispondente, disponibile in blu come vedete. Il pantalone è il pantalone, lo trovo subito a palazzo, pantalone, non lo trovo. Ecco, lo pantalone palazzo 82 euro, anche questo ha le taglie. Molto bello perché è scivolato e si muove. E poi come ti muovi fa il calciante, no? Poi la casacca. Ah, scusami, pensavo che avevi finito. È la maxi casacca schizzata, 83 euro. Se ne fianchi fino a 180, ovviamente è una scatola taglia unica, quindi è adatta a tutti. E' di viscosa, i colori della casacca è bianco con dei schizzi che sono particolari, stanno bene sia sul nero che sul blu. Sì. È un tono particolare. Volevo dire che dello stesso tessuto, dello stesso tessuto del completo che ha indosso Adriana, c'è anche l'abito smanicato, sempre con gli spacchi. Abito smanicato con spacchi, 117 euro, anche questo ha le taglie. E anche la casacchina da mettere sopra, qui, o da mettere sopra al pantalone palazzo. Allora, la casacca è la casacca scatoletta, 75 euro, se ne fianchi 160. Allora, questo tessuto vi posso assicurare, io non so se rende dall'obiettivo, ma è una cosa meravigliosa il colore così lucido e cangiante, proprio bellissimo. Ok. Questo è bello anche per una cerimonia. Sì, questo sì, che sono bello. Questo le porti bene. Allora, ok. Intanto da un occhio ai commenti. Allora, la maia che indossa mamma, quella sopraforata, è disponibile nei colori fucsia, rosa, sabbia e bianco. Fucsia, rosa, sabbia e bianco. E verde militare. Mi sa che sta prendendo i colori. Non li trovo. Non li trovi? No. Il fucsia è qua. E gli altri sono là. In alto là. No, il fucsia è questo. Ti prendi quelli in alto. Dove sono? No, è laggiù, mi sa. Qua? Eh, lo so, però sono sommersi. Sono sommersi. Eh, comunque ci sono rosa, verde militare, sabbia, il bianco che è nostra mamma e fucsia che vedete lì. Sul sito, cliccando sul colore, si possono vedere tutti quanti. L'ho trovati. L'ha trovati. Allora, blazer, che tessuto è? Fino a che taglia? Allora, il prezzo. Allora. Ho preso succio. Ho fatto un casino, però. Allora, guarda. Ma questo, per esempio, però era da far vedere col pantalone a farfalla, che è bellissimo questo, col pantalone a farfalla. La metto? Dammi il pantalone. Vabbè, dopo, alla fine, comunque c'è il verde. Dovete vedere anche quella rete? Il verde, il bianco, che ho io, il sabbia, il rosa, che è molto carino. Ma adesso vicino al fucsia verde, forse, però è molto bello come colore. E il fucsia è quello che abbiamo visto lì. Ho fatto un casino con le maglie, però ho fatto vedere. Allora, io posso andare, sì? Sì, che lasso. Mi dai quello, il pantalone e la canotta. È la canotta, quella in traverso. O quella con il plissero uguale. Ecco, quella lì. Allora, dicevamo, il blazer è disponibile in bluette, seno 120, fianchi 130. In nero, seno 126, fianchi 136. Più o meno siamo lì. Sono, sono, sono. Il tessuto? Niente. Il tessuto del blazer? Ed è? Quale? Quello che c'ha? Il blazer. Ah, questo qua. Te lo dico. Il prezzo del blazer è 109 euro. È certo per cento poliestere. Però, ovviamente, non è quello scadente, non dai. È un tessuto molto bello, non è il poliestere adesso. Anche lì ci sono tipi tipi. È comunque poliestere, però, non è di quelli che quando li indossi lascia. Allora, il prezzo di queste maglie, quella che è nostra mamma, viene a 29. 29. È in cotone. La casacca di Matte c'è solo blu? Sì, la serie che avete visto in blu di Matte è solo in blu, quello che avete visto. Sì, quello sì. Allora, poi ritorniamo al bianco e nero. Questo bellissimo set di bianco e nero. Allora, l'abito sul manichino è l'abito quadri. Adesso lo trovo. Ecco, l'abito quadri, 116 euro, veste di seno fino a 136, fianchi fino a 160. Attualmente è disponibile in bianco e nero, 100% cotone. Sotto c'è la sottoveste da 29 euro, disponibile in tanti colori. Veste di seno fino a 130, fianchi fino a 200. Anche quella è in traverso come la canotta e quindi stende bene, nonostante sia comunque 100% viscosa. I colori disponibili sono tanti, sono il fango, il bianco, il blu, il verde, celeste, fucsia, sabbia. Sul sito li vedete tutti quanti. Ah, l'abitino è questo qui? Sì. Adesso ne faccio vedere uno magari per far vedere il modello, che l'abbiamo fatti già vedere. Poi, a fianco trovate la maglia svasata con stampa e quella a fianco ancora invece è la maglia scatoletta con stampa. Partendo da quella svasata, quindi quella lunga, 76 euro. Circonferenza 200, di sia di seno che di fianchi. È molto ampia, però si può indossare anche con tagli inferiori. È bella per quello. L'ho indossata anch'io quella una volta. Questo, volevo far vedere la forma dell'abitino, quello che è sotto lo... Sì, ce l'ho che è in traverso. Sì, è in traverso, quindi qui stende nel seno, vedete? Ha questa possibilità di stendere perché è in traverso. È molto leggero per l'estate, è pavoloso. Poi, ma è svasata con stampa, diciamo, è disponibile anche in bianco con la stampa nera, come anche con la scatoletta. Vengono 76 quella svasata e è anche quell'altra, 76, quindi a posto. Eccole qua. E poi, sotto trovate la gonna stropicciata, 34 euro. Disponibile in nero, come vedete, è anche in sabbia e lilla. Vita fino a 130, lunghezza 98, 34 euro. Sesto è in sabbia. Ok, e lilla è in vetrina. Poi, a fianco c'è il pantalone con elastico, cotone leggero, disponibile in bianco, come vedete, tanti altri colori. 39 euro, vita fino a 140, fianchi fino a 150. Per chi è più alto, non gli piace la caviglia scoperta, il risvoltino si può togliere, non è cucito. Disponibile in bianco, in blu, verde militare, sabbia, verde ferragni, turchese. È un cotone molto leggero questo. Allora, la mamma stamurrà più bene con questo completo. Grazie. Come si chiama sul sito l'abito canottiera verde? Lo trovate come abito sottoveste, semplicemente. Abito sottoveste 29 euro. Il vestito verde cosa costa? 29 euro. Questa è per far vedere la maglia corta che ho io, invece che col jeans stretto, col pantalone largo a farfalla, che è molto grande. E sotto abbiamo messo la canotta con il prisé in fondo. Allora, la canotta a fondo prisé viene 44 euro, seno fino a 130, fianchi anche. Disponibile in bianco, nero e fucsia. Sotto il pantalone a farfalla, questa è la versione di tinta unita, ci sono anche le fantasie. Sia la tinta unita che le fantasie vengono 24 euro. E vesto di vita da 88 a 150, fianchi fino a 180, quindi vestono proprio tutte le taglie. lunghezza 105, Adriana è alta, infatti non le scopre la caviglia. E i colori, le fantasie più trovi. Allora, queste sono le fantasie. E questa. Ah, questo per quanto riguarda le fantasie. Altre invece i colori mi sembra che... I colori è rimasto, sì, il bluetto, il sabbia oltre il verde militare. Forse c'è un blu, c'è un blu. C'è un blu, c'è un blu anche. Quindi sabbia, sul sito. Bluet e un blu. Ok, quindi sul sito l'ho aggiunto. Quindi lo trovate disponibile. Poi, può far vedere, dato che c'è il card di Canariete? Sì, adesso glielo trovo. Ah, è lì dietro l'abito turchese. Dietro là. Ah, quello. Sì. Va bene. Vado. Vai pure. No, va bene. Lo indossi. Poi dopo c'è un altro completo da indossare, che non c'eravamo dimenticati, che è arrivato stamattina. Anche quello è molto carino. La mamma è veramente bella e sportiva. Allora, la sottoveste nera, sì, al momento ESA. Saurita, quella da 29. Verrà riassorbita. E se la troviamo, sì, sì, come no. Tanto questa è tutta l'estate. Sì, esatto. È una cosa per tutta l'estate. Forse è probabile prossima settimana. Magari se ci iscrivi su WhatsApp, segniamo il tuo numero. In modo che quando arriva, ti contattiamo. Sì. Ecco, questo è il cardigan a rete. Chiaramente è un per di più che si mette sopra per completare l'abbigliamento. Però è molto carino anche così, eh. Con il cardigan, il pantalone a farfalla. Ok. Bene. I colori, ricordiamo, sono? Bianco, nero, lilla e verde militare. Allora, facciamo vedere. Vorrei vedere i due vestiti colorati visti prima. La mamma ha mostrato due vestiti, uno verde e uno fucsia. Sì, no, verde... Mi fate vedere. Verde e blu? Verde e blu, sì. Può essere? Sì, fucsia non c'è nessun abito. Fucsia è finito. C'era fucsia questo? Ah, sì, ecco, sì. Infatti quella volta mi chiedo, forse lei va a chiestare la Giuseppina. notari anni. È quello che chiedeva... È quello dell'altra volta, però adesso c'è blu, verde e turchese. Turchese, esatto. Di rosa fucsia non c'è più. 46 euro. Allora, facciamo vedere questa cosa un pochettino più asciutta di marco. Oh, c'è un abitino un po' più asciutto, si può portare con la cinta e anche senza. Tutto abbottonato davanti. Poi abbiamo un'altra versione dell'abitino, quello che abbiamo presentato, estivo, leggero. Sottoveste, quella avete visto in verde. E questo... Mi piacciono i colli su. Su. Allora, questa è un'altra serie di matt. Allora, Maria Romana, la canotta che indossa mamma viene 39 euro in viscosa. Sì, è in traverso. Mi stende anche sul seno. Ci fai vedere il vestito sott'ana verde. L'altro invece è quello senza maniche. E poi c'è quello di matt che stiamo guardando adesso. Allora. Sei pronta? No, aspetta che te la do io. Quella... Questa? Sì, sì, sì. Questa è. Ok, vai Vale con questo. Allora, quello sul manichino è l'abito camicia, 105 euro, disponibile in sml, in verde e nero. Sì, lo voglio far vedere anche senza cinta. È molto carino e si può portare anche aperto a spolverino. Sì. È tutto abbottonato, la bottonatura è coperta. Ha le taschine sui fianchi. No, è un abitino, ecco, molto sicuramente per l'estate. Fa sia da camicia lunga, sbottonata, che da abitino. La cinta è facoltativa. È un cotone freschissimo, è molto leggero. Ok, poi di fianco abbiamo lo smanicato. È disponibile anche in nero l'abito. Lo smanicato a fianco viene 54 euro, maglia in filo smanicata. Disponibile in due taglie, in verde con la scritta bianca e bianca con la scritta nera. Sì, adesso la trovo. Eccolo qua. Ok. Poi, a fianco... No, aspetta, la sottoveste di prima. Sì. A fianco abbiamo la camicia fondo con scritte, 89 euro, disponibile in sml, in nero e in verde. Quindi c'è disponibile anche l'altra versione. La canotta ovviamente fa contativa, perché può anche essere carina così. Sì. La canotta è quella che indossa sempre mamma, è sempre quella, 39 euro. E il pantalone, il pantalone a calice, tinta unita, in bengalina leggera, 59 euro. Disponibile in più taie, dopo i colori c'è il bianco, il nero e il blu, quelli basici, e il jeans. Il bianco e nero e il blu. Jeans leggero, tipo... Sì. Ciambri, tipo. Ok, sì. Vediamo il completo. Anche questo è un completo molto carino da cerimonia. Allora, Maria Romano, no, la canotta contattaci su WhatsApp, 347-10-59-082, perché alcune delle cose che stiamo facendo vedere sono arrivate oggi, quindi non ho avuto modo di riassortirle sul sito, però sono disponibili. Ok. Ok, questo è un altro completo molto carino, sia da passeggio che da cerimonia. Dopo uno lo rende sportivo e elegante, secondo di come ha piacere. I cartellini ce l'hai dentro, ma ce l'hai tutti impennati. Eh, non lo so, io non riesco. Non me vedo, non c'ho neanche un tecchio. Vabbè, c'hai ragione, c'hai ragione. Ah, so. Mi reclamo. Perché sono tutta spettinata, sembra una massa. È un completo molto particolare, la giacca è molto bella. Sì. Fa vedere il fianco e dietro? Sì, guarda. C'è questo particolare, guarda. Eh, su questo bianco, cioè disponibile bianco e nero. Su questo bianco abbiamo messo il pantalone gaucho con risvolto. E la canotta risettata, che abbiamo visto prima, in varie versioni. Bellissimo. Il nero, che è questo, è lo stesso, solo che nero. Cioè, sia il pantalone come indossa Adriana, come modello, ma anche questo modello qua. Ma, questo è un modello diverso. In fondo, va un po' a chiudere con una righettina ed è fatto un po' a palloncino ed è un po' più lungo rispetto a quello che indossa lei. Ok, allora, per quanto riguarda quello che indossa Adriana, la giacca viene 89 e il pantalone 69. Mentre il pantalone che è mano mamma viene 64. Ok. Allora, mi sa che... Io non ho più niente da indossare. No. Non ci stanno. Sai cosa, adesso ti do, siccome io faccio vedere questo qua... Sì? Cosa mi dà? Ti do quello verde da mettere sopra, cioè togli la giacca e metti... Così vedono anche il modello indossato. Va bene. Vediamo che io indosso. Che è arrivato stamattina, erano finiti i colori. Ah, no, vabbè. Ok. Ancora? 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 Testa l'idea è con tutte queste spine. Sai che io innalzi i piedi. Oh, questo tiene caldo, ma c'è qualcosa che mi sa. Allora, questo pazzetto. Ok. Allora. La tolgo la collana? Sì, non ci dice niente qui. Allora, intanto Valle puoi presentare questo qui, così dopo Adriana lo puoi vedere indossato. Allora, quello appeso è il Maxi Cardigan, 79 euro, veste di sé nei fianchi fino a 240, lo indossa anche mamma, chiaro che deve piacere una cosa di vestività ampia, è lungo, lungo 98 centimetri, disponibile in verde militare, è tornato il verde che indossa Adriana, il nero è tornato? No, è finito, l'hanno finito anche loro, è tornato blu e beige, blu e beige non lo trovate sul sito perché, come diciamo, sono arrivati oggi, non ho avuto modo di caricarli, ci potete scrivere o comunque a breve lo troverete anche online, nei prossimi giorni. Ecco, molto bello. Adesso ho fatto l'ampiezza, guarda. L'ampiezza, cioè questo, sì, poi dopo si può fare così, si può rovesciare... Dopo uno lo gestisce un po' come vuole, però c'è questa ampiezza che è bellissima. Sotto a quello verde militare c'è la maglia abbinata, che è dello stesso filo, della stessa tinta, 54 euro, se non fino a 130, fianchi 140, lunghezza 83, quindi a chi piace coprire il fianco, la copre. Allora, questo è il colore beige, che è molto bello anche sul verde militare, sul bianco e beige d'estate è molto bello, bianco e beige nero anche, e il blu che è qui. Questo è il blu e verde militare, sono i colori che sono rimasti disponibili, ci sono arrivati stamattina, il nero non lo avevano più e credo che non tornerà. Ok, allora, poi sul manichino trovate il completo collo ad anello, 145 euro il completo, la casacca seno 160, fianchi 150, il pantalone vita fino a 130, fianchi fino a 140, disponibile anche in verde acceso, più o meno come i casi che indossano Adriana, più o meno la tonalità è quella. Di cosa? No, se parla è completo, se lo vuoi far vedere. Sì, è di viscosa, è una viscosa scivolata e leggera, eccolo qua. Ok. Casacca e pantalone, 145 euro. Ok, abbiamo, per stasera vi abbiamo fatto vedere un po' di cose, quelle che avevamo preparato sono queste, vi ricordiamo il nostro sito, per chi vuole andare a vedere un po' di misure, prezzi, foto, degli articoli che abbiamo, si chiama shop.lechicchesenigallia.it abbiamo il numero di whatsapp dove potete chiederci informazioni, ordinare le cose, potete telefonare anche, che è il 347 10 59 082. Noi spediamo in tutta Italia, la spedizione è gratuita al di sopra dei 100 euro, al di sotto ha un costo di 7 euro. i nostri metodi di pagamento sono PostePay, Satispay, carta di credito, con un link, e bonifico bancario. E poi cos'altro? Niente, abbiamo detto, penso tutto. Vi ringrazio tanto di essere stati con noi, ci fa molto piacere che ci fate compagnia, fateci un po' di pubblicità, ringraziamo Adriana che è stato un po' di capi per noi, Valentina e tutte voi. Grazie e alla prossima diretta. Ciao. Aspetta, un secondo. Quanto misura la vita del pantalone? Ferma. Quale? Penso quella che indossi te. Questo qui? Sì, ma per Barbara Ipadova lei va bene sicuramente. Sì, sì, tutta il più può essere un po' grande. Adesso lo misuro, poi magari glielo scrivo su whatsapp. Ok. Perché il centimetro è un po' di seno. Allora, se ti vado il blocco, cosa fa di seno? 130 circa. Comunque ci dovrebbero andare bene. Ah no, dice no sul manichino. Eh, quello lì per te è grande. Questo? Questo è grande, sì, sì. Sì, per lei è grande perché fa di vita parte da 100, fermo, fino a 130. No, no, ma poi è rosso per lei. È troppo grande tutto, si ha la gamba. Questa è per una taglia più grande, per un 54-56. Ok, grazie a tutte. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao.